Il trofeo sarà consegnato al vincitore da Mauro Vieni, direttore del Gino d'Italia, da Andrea Monti, direttore del Plagazzetta dello Sport e da Brian Fulson, presidente della Music Miss Internazionale. Il trofeo senza fine va al vincitore della centesima edizione del Gino d'Italia, signori e signori, bomba del Girona! E per cosa è come un'altra, a entrare nella leggenda e a scrivere il proprio nome sul trofeo senza fine!